La situazione in questo momento storico è molto difficile. Abbiamo dei costi altissimi di energia e sta iniziando un brutto periodo di inflazione. Il ruolo del nuovo governo sarà assolutamente quello di arginare le difficoltà temporanee ma creare anche le condizioni di un nuovo sviluppo. Con i fondi del PNRR credo che noi possiamo fare ciò che i nostri padri e i nostri nonni hanno fatto. Un nuovo miracolo. Lavoriamo per quello.